cioè diciamo che il danno del pompa non è più consistente sembra di essere tornati nella season non mi ricordo quale era quella prima del combat dove c'era il pump che dove c'era il pump che non one shottava che c'era il pump che faceva tipo 7 30 e dove il tattico faceva schifo e dove l'unico forte era lo spas praticamente che faceva dei danni buoni ma delle volte anche lo spas faceva 28 cioè sembra di essere tornati indietro in quella season che non ricordo se fosse la 8 la 9 non lo so per quanto riguarda i danni del pompa c'è nel popa sono veramente diventati i ridicoli o fai un full head incredibile oppure il pompa non fa danno se hai un p90 il p90 letteralmente ragazzi è l'arma più forte che c'è attualmente nel gioco il p90 carica in 1,5 secondi e 1,7 secondi è insana è l'unica arma valida e consistente a differenza del pompa che non lo è perché pompa non lo sono io prima col pump i mettevo li editavo quello dovevo fare e non ammazzare una mazzavo uno poi gli attivi poi gli attivi poi gli attivi poi gli attivi 56 che vedi adesso gli ho fatto 56 con cosa? col pump verde io ho fatto 106 ma solo a chi sono andato in faccia arriva l'amico si si è naiga c'è adesso vi ho fatto 22 ah se non lo puoi fare andiamo a prendere l'air prop è giusta me la trappola prima di morire dobbiamo ritornare indietro perché faccio il medico ok ah tieni tieni aspetta andace il led va bene adegenta io non riesco a dare una mano e non voglio che ti rippano non riesce a salire aspetta tieni una benda ma ti ma zanno quanti ma giù faccio cadere faccio cadere faccio cadere mi spara tieni questi uno ci va a cadere io la vedo dura però c'è un bug comunque non manco più inizio di qua è stata passata vieni qua aspetta mamma ma nicolino nicolino non avevo dubbi non avevo dubbi tutta la sera mamma mia sto da me ve lo sogno stampei stampei comprendo questo è tu mangi è un buon mangi è mano è sparata come diceva ah da lì io lascio restare che arma era? si già non voglio ah no me da solo bianco bianco di nuovo c'è l'amichetto l'amichetto mi sa che sta su la sinistra eccolo c'è testa 21 dopo 21 21 unico ok morto ah cioè io ho fatto 7-21 guarda croia sta a distanza sta cosa forte ma a distanza un po' non andiamo a luttare munizioni servono andiamo tipo quello c'è chi non è? dopo 21 dopo 21 se non arrivo 4 sniper e non trollo un po' che 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 è 2 scudini per te oi niente sopra da metti 2 scudini ma sono amico di amico di amico di senza vita come che si dice a domani è stato un piacere averti qui e buonanotte ma questo è una trappola sotto attento non è mio non so dove non ho idea eccola qua anche il loot si sono pullata sul ponte sul ponte ok qui in salto pure di oggi rpg oro giustamente come sto parlando viola e spazio eccoli 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 33 comunque si flangano di 10 attende che poi c'è attende a piccare perché mo no no ti giuro che non ho piccato nulla vieni qua non ho piccato niente fammi scendere poi vieni qua e fammi scendere non ho piccato nulla 0 28 28 a 30 si mira lo so lo so sono a cadere c'è difficile però ho rafforzato delle strutture rimani pure se vuoi rimani rimani finiti like ok sa quello a sinistra diciamo quello in mezzo ci servono razzi eh giustamente non l'avevo visto perché c'era il pink vieni qua non ti preoccupare non ti preoccupare c'è i pesci è arrivata la kill razzi tieni 12 vuoi vieni ne ho una dovremmo scendere non ti preoccupare tieniti pure l'ha mettato loro a lui pensi che non ha più massa aspetta blow 1 è il mini questo qua sotto li vado a prendere senza shield quello la 60 hp quella a sinistra tua non ha più non ha più non ha più bianco 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 buonanotte dj io ho fatto con lo spasoro 187 in testa quindi mi sa che non mi sa che non monta comunque no